L'uovo è riferito solitamente all'uovo e alla luna. Se l'altro uovo è raramente usato nell'alimentazione umana, si usa a recisare l'animale da tipo verbo, ma che se lo sa? L'uovo è importante... Posso andare in piedi? Vai, da lì. L'uovo è importante in termini costituzionali, perché è l'alimento che il formaggio è ottenuto con il mangiamento biologico, quindi l'uovo è infattivo non temo le piacce e sostanzialmente. L'uovo è appena riposso. Signorina, seguite la lezione. E' presenziale. Qualcuna, Maria, non potrebbero conoscerti e si concentravano invece e si concentrava tra due giorni. Successivamente raggine la parte bianca e il cuorlo da quante c'è... Di Maria, ricaricovi, sembra il momento di discutere delle vostre faccelle. Io non lo so. Perdono compattezza. L'anno aumenta in quanto il cuorcio è leggermente pulvoloso e poi si possono sviluppare i geni, che in breve tempo rendono l'uovo e immaginabile. Per conservare meglio si lava, si sterilizza e si mette un video libero. Allora, come vuoi c'è? Allora, che me la giuda da circa 4 dati, con un'incapa del 90% per evitare la concentrazione dell'acqua. Io non vuoi che non senta me la simpica del servo del peso, da un'intera più scherza. Il giorno è un'intera più semplice, che si vuole sembrere più attenta. Tu sei una prima madre, mi spieghi adesso che dovrei fare. Tutti i giorni la stessa storia. Non sei a casa tua. A casa tua lo puoi fare, qui no. Non hai niente da dire? Questa è la prima e l'ultima volta che esci. È bene per tutti quanti. Io adesso vi metto una nota.